Ciao Ronny, come stai? Ciao, tutto bene? Allora, Le Pleasier. Che cos'è Le Pleasier e cosa rappresenta per te? Le Pleasier è la mia creatura. Sono 23 anni e rappresenta tutto per me. Nella gioia e nel dolore. E da quanti anni fa ristorazione? 23 anni. Voi siete sempre aperti perché dalla colazione alla cena siete sempre qui. Dalle 6 alle 21, 7 giorni su 7. Come sono cambiati i clienti e come è cambiato il rapporto con i clienti in questi anni? Il rapporto del cliente per me è importantissimo, lo dico da sempre. Per me la mia attività rappresenta il modo di far passare i 5 minuti più belli della giornata. Ma dove si riesce? Perché ecco appunto negli ultimi anni è cambiato un pochettino questa frenesia da parte dei clienti, di entrare nei locali, di pretendere, di trovare sempre il cosiddetto quello nell'uovo. Questa è una cosa che a me dispiace molto, fa molto male, però continuo a perseverare nel dare questi 5 minuti di svago totale per chi inizia la giornata con un caffè le Pleasier. A parte la tua accortezza nei prodotti, tutto quello che voi proponete, ho visto che c'è anche un'attenzione particolare anche ai dettagli. I dettagli li ho dati principalmente per fare la camicia che ti veste bene, ecco appunto me la sono fatta a sua misura negli anni, ho visto appunto quello che mi serviva, ho capito e quindi me la sono bucita addosso. E poi anche per il cliente perché cerca determinati appunto dettagli, è molto attento a questo, quindi mi sono sposato anche con loro. E c'è che facciamo produzione, siamo molti attenti alla produzione proprio, c'è la croissant della mattina, pasticceria e rosticceria, pochi ma buoni. Ecco se dovessi chiederti il punto di forza del Pleasier? Sarebbe banane, ma rovini. Grazie.